Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo canale di Battle for Games, io sono Carlo e oggi siamo tornati per fare un nuovissimo video che è da tantissimo tempo veramente che voglio fare, ovvero il video dove vi mostro la mia camera ragazzi, facciamo una panoramica, guardate la mia camera, guardate la mia camera, ok basta, avete già visto troppo. Io entro da qui, precisamente qua c'è la porta e vi trovate in camera, intanto mi suona già subito il telefono perché io ovviamente se faccio dei video dove non mi suona il telefono non sono contento. Comunque ragazzi qua c'è il letto, questo qui è il fantastico letto dove dormo tutte le notti e poi qua sopra il letto c'è una mensola, qua c'è una chitarra elettrica appesa, mi piace, mi piaceva e allora l'ho appesa, la suono anche, cioè non è che l'ho comprata solo perché è figa no? Anche perché è figa ma la suono anche. Comunque ragazzi qua c'è una mensola con alcuni giochi, Battlefield, FIFA, Batman, SimCity, giochi da Play 4, Killzone, The Last of Us, Destiny, Beyond, quello che sto giocando e una cassa che dopo vi spiegherò bene l'impianto audio e come è fatto. Dei cubi di Rubik dal 2x2 al 5x5, dei cubi di Rubik un po' più stigati là di dietro, una bottiglia di vino, una lattina di Monster, una lattina di Red Bull, una steelbox di Tiff, anche se non c'è più il gioco mi sono tenuto la steelbox perché mi piaceva. Qui c'è un Pikachu di carta costruito stampato, mi piaceva, me l'ha fatto la mia ragazza e mi piaceva quindi l'ho messo lì, un'altra cassa, dei cassettini con della roba dentro, vabbè lasciate stare e qua vabbè c'è una mensola con un martello, non fate troppe domande, non chiedetevi perché c'è un martello, dei libri, degli spartiti, dei codex di Warhammer, non so se avete mai giocato a Warhammer, io ci ho giocato e poi niente. Qui ci sono una mensola piena di adesivi, quando trovo degli adesivi che mi piacciono li li fico sopra e quindi fine. Poi là sopra ragazzi c'è la super bandiera del sassuolo perché come sapete ormai se avete visto i vecchi video del canale, come sapete là sono un tifuso spiegattato del sassuolo e quindi mi sono appeso la bandiera in camera. Poi ragazzi, qua altre, parlando e rimanendo sul settore sassuolo, calzettoni di Berardi ragazzi firmati, sono proprio i suoi, me li ha dati lui su facebook e se è andato nel mio profilo più arrivato potete trovare la foto. E questa qua sopra ragazzi, questa parrucca qua, che usava Dello in alcuni video all'inizio quando abbiamo appena iniziato a fare i video, è la parrucca di Troianiello. E' un altro giocatore che è giocato in serie B, in serie A non lo so sinceramente, comunque è un giocatore che giocava nel sassuolo quando eravamo in serie B e l'ha lanciata dal palco quando abbiamo fatto la festa che siamo andati in serie A e è arrivato in mano a me. Potta di culo! E poi quell'altro qua, questo qui è un cappellino che mi ha regalato Dello, sempre della Mappei, sponsor del sassuolo, era suo, me l'ha regalato, molto seschi, molto sexy e allora me lo sono tenuto anche questo qua sopra con la roba del sassuolo. Passiamo ragazzi alla scrivania anche perché poi in camera mia non è che ci sia molto da vedere. Qua sopra c'è un comodino con l'iPad, vabbè, un foglio per prendere appunti, la luce e qua un cassetti con... c'è un casino dentro i cassetti quindi è meglio se non lo vi faccio vedere. E poi niente allora ragazzi passiamo alla scrivania e al setup che è quello che vi interessa, partiamo da qua. Qua sotto ragazzi c'è il mio computer, il mio PC fisso che mi sono assemblato in veramente un sacco di tempo, l'ho cambiato, l'ho aggiornato, io ho fatto degli upgrade un sacco di volte. Allora vi dico le caratteristiche molto velocemente, il case è un CM Stormtrooper, come avreste potuto intuire per i nerdi, per quelli che sono più nerdi. Poi vi faccio vedere dentro. Allora il PC ha un Intel Core i7 4790K, spero di non sbagliare niente perché un po' sinceramente che non ci penso. Una Geoforce GTX 970 della MSI. E scheda madre MSI Gaming 5, poi cos'altro? Schede audio c'ha l'Axonar DGX dell'Asus, alimentatore V750 della Cooler Master, 80 Plus Gold. 16 GB di RAM Core Air Vengeance, c'ha due harddisc, uno da 500, uno da Antera, un SSD da 128 della Samsung. Poi cos'altro c'ha? Ah, c'ha il raffreddamento a liquido XS PC Custom, che mi sono montato io, con un radiatore da 280 mm e la pompa. E qua davanti era tutto un kit di quelli già preassemblati, vabbè, sono quelli che costavano diciamo un po' meno. E poi niente ragazzi, direi che vi ho detto tutto, direi, penso, spero. Sì, penso di avervi detto tutto del computer. Questo è il mio PC che uso tutti i giorni per fare il video e mi ci trovo veramente molto bene, non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Poi, altro PC, qui c'è il computer portatile con un po' di casino sopra, la lascio a testare. Computer portatile Asus N56J, direi, dove c'è scritto, c'era scritto da qualche parte, ecco qua, sì. Asus N56J, non fate caso a questo bollino che c'è scritto Nvidia GeForce GTX 760M, ma non è vero niente, perché c'è, dentro c'è una 840M, fa cagarissimo, però vabbè. Ragazzi, lo uso per quando vado in giro, per montare i video, c'è un Intel Core i7, come potete vedere, 4700, direi. Sì, 4700HQ, 16GB di RAM, anche questo, e devo dire che per fare quello che devo fare, quando vado via, va più che bene. Traziera retroilminata, perché mi piaceva un sacco, quindi ho preso così. Quindi niente, questo è il PC portatile, veramente consigliato se voi doveste prendere un computer portatile. Finiamo il setup, ragazzi, perché qua c'è tutto questo bendidio di roba che so che siete curiosi. Finiamo col PC, tastiera, cemstorm trigger, ce l'ho ormai da due anni, non mi ha mai dato nessun tipo di problema, con gli switch black, sono un po' durettini, però io sinceramente mi ci trovo abbastanza bene. Ma ho il still seer SS, rival, ultimamente questo mi sta dando qualche problemino, soprattutto con il click della rotellina, perché delle volte mi apre tipo 3-4 finestre al posto che aprirme ne solo una, quindi credo che tra poco lo cambierò, cioè finché dura lo tengo, ma credo che stia un po' tirando gli ultimi. Monitor, ragazzi, è un 24 pollici della Samsung, il modello è, non me lo ricordo, questo qua, S24C350, in Full HD, a LED. Mi ci trovo molto bene per quello che devo fare io, ovvero gaming, così, cioè è un 60 Hz normalissimo alla fine. Poi, ragazzi, il PC è finito qua, qua c'è un cane, anche, notate il cane, guardate che cane molto figo che ho, ok, basta, il cane è quello, vabbè. Sopra al PC, come potete notare, c'ho un TV 40 pollici, che uso, che è collegato alle console, e anche al computer, quindi ci guardo i film e ci faccio tutto quello che voglio. Passiamo qua, ragazzi, qua c'è la Play 4, con i due joystick, e l'HDP VR 2 che uso per registrare quando faccio il gameplay della PS4, e lì c'è la mia vecchia, vecchia, vecchia PS3, è stata proprio la prima PlayStation 3 uscita, ha tipo ormai 8 anni, funziona ancora, io vi sto facendo i gameplay di Beyond su questa qua, e come potete vedere funziona perfettamente ancora. Sopra a Play 4, ragazzi, c'ho due pop di Harry Potter, io sono drogato, un fan assolutamente drogato di Harry Potter, c'ho Harry Potter in versione Quidditch, e il pop di Hagrid, ragazzi, è troppo bello, questo qua, cioè, guardate quanto cavole grosso, è veramente gigantesco, e allora li ho messi qua. Non sono dimenticato di farvi vedere il tappetino, è un Steel Sears del Fanatic, e è gigantesco, però vabbè, pensavo sinceramente fosse più piccolo quando l'ho comprato, però vabbè, dai, ci sta, quindi ho una mezza tovaglia sulla scrivania. Qua c'ho il microfono che uso per registrare, che è il Samsung Meteor, come io mi trovo veramente molto bene, non è, l'audio che state sentendo non è registrato da quello, ma da la GoPro, infatti non penso che sarà di gran qualità, però vabbè, dai, ragazzi, va lo stesso per questo video. E qua ci sono le cuffie che utilizzo per fare i gameplay, che sono delle Superlux HD 681 Evo, veramente, ragazzi, sono cuffie che costano 29,90€, e hanno una qualità audio, ragazzi, che sono spettacolari, perché sono cuffie fatte, credo, in Cina, e non sono di marca, quindi non ve le fanno pagare magari 200€, come possono costare delle, che ne so, delle Sennheiser, oppure dell'HKG, o comunque quelle marche lì tutte e fighine che costano un culo di soldi. Poi vabbè, ci sono due pesi da 4 kg, che ogni tanto mi metto lì a farli, a caso. Ragazzi, passiamo all'impianto audio, che sinceramente è la cosa a cui sono più affezionato in camera. Allora, qui c'è, ragazzi, l'amplificatore, è un impianto audio 5.1 intanto, c'è l'amplificatore con delle scatole, vabbè, la scatola dell'iPad, la scatola del telefono, lasciatene stare quelle lì, e l'amplificatore è un impianto audio Yamaha con 5.1, come vedete le casse sono tutte montate a muro, una, sono collegate anche queste casse qui, questa, fa fuoriuscire lo stesso audio che fa fuoriuscire quella, quindi mi posso mettere lì ad ammirare i film sulla TV, così posso sentire l'audio 5.1 anche da quella cassa là. Invece quando sono seduto al computer la sento da questa cassa qua. Le altre sono, una là sopra all'armadio e l'altra là. Stessa cosa per queste due casse qua, va la stessa cosa per quelle delle altre, e sono collegate con lo stesso audio. Il subwoofer, ragazzi, è sotto la scrivania, ovvero là sotto, non fate caso troppo ai cavi, perché c'è un casino allucinante di cavi, quello è un subwoofer che veramente, ragazzi, picca un casino, credo che l'impianto totale sia 600 watt, ma non ne sono proprio sicuro, 600 o 1000, non mi ricordo sinceramente, comunque veramente quando ci diamo su al volume, si fa dare del lei. Ah, un altro oggettino molto molto interessante, questo oggettino qua, spero che si veda perché è un po' a buio, è praticamente uno split Ethernet della D-Link, io ho un problema in casa, che il modem non è in questa stanza, quindi il modem è esattamente nella stanza opposta a questo muro, dalla parte di là a questo muro c'è un'altra stanza, dove c'è il modem, quindi io cosa ho fatto? Ho fatto un buco nel muro, mi sono fatto portare qua un cavo Ethernet, che è questo, questo qua grigio, arriva, va dietro all'armadio, e poi va nell'altra stanza, l'ho portato qui, da qui posso uscire con tanti cavi Ethernet, uno alla TV, uno al computer, uno alla Play, e così ho internet per tutti i dispositivi. Ecco ragazzi, poi, cosa strana, che vi state chiedendo, a cosa te ne fai di un mixer in camera? Questo mixer ragazzi, mi serve principalmente, per poter ascoltare, tutto l'audio che fuoriesce, dalle console, dal computer, dalla TV, da qualsiasi dispositivo, che io voglio, o qualsiasi dispositivo, che ci è collegato a questo mixer, viene tutto riprodotto, su queste casse, sull'impianto audio Yamaha, che ho. Quindi ragazzi, io praticamente, l'audio delle console, è tutto collegato, tramite cavo HDMI, alla TV, e poi la televisione, è collegata, tramite un cavo semplicissimo, RCA al mixer, e poi viene fatto uscire, sempre con un cavo jack, dall'uscita generale del mixer, che poi lo porta, al vibificatore della Yamaha. E invece il PC, è collegato direttamente, a un altro canale del mixer, e dopo portato sempre, all'ultimo canale del mixer, che va poi all'amplificatore. Ah, qua ragazzi, ecco, potrei farvi vedere questo, guardate. Allora, qua c'è un'altra chitarra, che è una chitarra, che utilizzo quotidianamente, è una chitarra acusticale della corte, e qua c'è un'altra, c'è una macchinina radio comandata, che ogni tanto mi metto, ad andare fuori con i miei amici, ci divertiamo a fare i salti. E ogni tanto mi dedico, anche al modellismo ragazzi. Allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, credo che possiamo finirlo qua, perché ormai non posso più farvi vedere niente, anzi, posso farvi vedere il mio telefono, ok, qua sulla scrivania, ma penso che l'avete già visto, è un Galaxy S6, con una cover molto nerd. Niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, questa è la mia camera, fatemi sapere cosa ne pensate, e ditemi anche voi nei commenti, che setup avete magari. Sono curioso adesso, scusa, non è giusto che ve li faccia vedere solo il mio. Quindi niente ragazzi, lasciatemi un bel like, se il video vi è piaciuto, commentatemi qui sotto il video, e iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto. Ciao!